Prosegue in Valchiusella il progetto di educazione ambientale e le casette per gli uccellini, avviato nell'estate del 2021 dal comune di Isiglio, rivolta agli alunni della scuola primaria per coinvolgerli nella realizzazione di casette da posizionare sugli alberi, per avvicinare i bambini alla natura, alla conoscenza del territorio, alla sensibilizzazione verso la flora e la fauna che li circonda. L'idea è stata accolta favorevolmente dalla dirigente e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale di Vistrorio e, con il sostegno della città metropolitana e delle sue guardie ecologiche volontarie, quello che era inizialmente un progetto limitato al solo comune di Isiglio è diventato un'iniziativa di valle per fare in modo che le nozioni di scienze naturali che i bambini apprendono a scuola siano accompagnate da esperienze dirette e da testimonianze da parte dei volontari che hanno fatto dell'educazione ambientale un impegno e una missione. Siamo oggi in questo complesso e ringraziamo la dirigente che ci ha invitati, il sindaco, perché ci ha dato l'opportunità di poter avvicinare questi ragazzi, questi studenti e poterle spiegare quelle che sono le dinamiche di natura ambientale, di protezione della natura e anche della fauna e un approccio di utilità nei confronti della tutela dell'ambiente. Poi abbiamo appreso anche che questo evento viene realizzato in un contesto più ampio che prevede la costruzione e la posizione di nidi per uccelli che verranno apposti mi sembra in data 7 giugno nei boschi qui vicino, quindi ci sarà tutta una serie di situazioni che potranno monitorare e avranno la possibilità anche di poter conoscere la natura e la fauna autotona del posto e poter convivere con loro nella maniera più giusta possibile. Questa è un'attività che si presta a una progettazione così come effettivamente è stata multidisciplinare, consente loro di approcciare una serie di tematiche che possono riguardare le scienze ma anche l'educazione ambientale, l'educazione civica, la geografia, perché appunto come si è detto il progetto si contestualizza in un contesto che è quello montano che i bambini abitano e l'attività che è stata costruita con appunto degli interventi in classe ma anche con un lavoro di manipolazione quindi la costruzione delle casine per gli uccelli rappresenta per loro un'attività molto concreta, molto attiva e sappiamo bene che tutto ciò che i bambini fanno attraverso delle esperienze pratiche e anche l'intervento di personale qualificato che loro imparano così a riconoscere resta sicuramente nel loro percorso formativo e rappresenta un'esperienza significativa.